Oggi, alla settimana della Biarchitettura della Domotica, parlerò di un case history di un edificio 5 piani fuoriterra in legno, certificato con la certificazione Casa Clima e Arca, in classe Gold in entrambi, quindi Casa Clima Gold Nature e Arca Gold. Vedremo come l'integrazione architettonico-impiantistica va sviluppata in fase progettuale per arrivare a buoni risultati.